Signore e signori, guardate che non faccio vedere della sorpresa, ecco a voi, sorpresa, vediamo un po', più bella la mia Y, anno 2000, 10.000, due benzina. Signore e signori, ecco nella mia nuova macchina Lancia Y, ti è piaciuto ragazzi? Commentare a tutti che è arrivato quello nella mia Y con gas, con GPL, per preparare pure i fugi d'artificio e anche i campagni e i toti. Noi siamo al primo giorno nella mia Y, congratulazioni, grazie per la visione.